Ben trovati ad ora Tg all'arma e criminalità nel catanese ennesimo furto con spaccata la notte scorsa da C. Sant'Antonio al supermercato Sidis al confine con il comune di Aci Bonaccorsi colpo riuscito da 25 mila euro mentre ancora si contano gli ingenti danni indagano i carabinieri sentiamo Salvo Cutuli La cassa continua del supermercato con l'incasso del fine settimana è un escavatore parcheggiato nelle vicinanze rappresentano le condizioni ideali per mettere a segno furti con spaccato ormai consumati con frequenza settimanale soprattutto in provincia il sistema adottato da bande specializzate in questo tipo di reati è piuttosto diffuso e sta mettendo a dura prova gli investigatori impegnati ad arginare il fenomeno l'ultimo colpo è stato portato a termine la notte scorsa e danni del supermercato Sidis di Aci Sant'Antonio al confine con il comune di Aci Bonaccorsi in provincia di Catani alle due del mattino i cingolati del grosso mezzo meccanico hanno svegliato di sovrassalto i residenti di via Lanza, arteria stradale intercomunale la pala meccanica è stata rubata in un parcheggio di mezzi pesanti da percorso poco più di 500 metri di asfalto per raggiungere e abbattere il pesante cancello di ingresso che conduce nel parcheggio del market per poi puntare in direzione della cassa continua del supermercato scardinata dalla parete in muratura con facilità nel manovrare il braccio meccanico l'operatore ha travolto due grosse fioriere e demolito parte della tettoia in ferro uno o due colpi di cucchiaio della pala meccanica ben assestati per liberare forziere dall'allorologiamento e caricarlo su un altro mezzo con il quale i componenti della banda, almeno 4, si sono dati alla fuga 3 minuti a massimo per portare a termine il colpo da 25.000 euro in contante almeno il doppio costo dei danni causati alla struttura alcuni residenti hanno riferito di aver sentito il frastuono del mezzo meccanico impattare e abbattere il cancello in ferro all'ingresso e il rumore della parete in mattone venere giù a colpi di carte pillar eppure nessuno pare abbia visto il gruppo criminale in azione al centralino del 112 sono arrivate diverse telefonate di cittadini impauriti all'arrivo della pattuglia dei carabinieri dei banditi nessuna traccia la pala meccanica aveva il motore ancora acceso e immediata è scattata la caccia all'uomo con posti di blocco piazzati in un raggio di diversi chilometri dal luogo dove è stato consumato il furto ma i malviventi sono riusciti a dileguarsi i file con la registrazione di videosorveglianza del supermercato sono stati acquisiti dagli investigatori che sperano di trovare indizi utili alle indagini Adesso la pagina sindacale tende rosse nei luoghi più caldi d'Italia dopo il sindacato di strada la FLAI CGL lancia una nuova campagna per il 2016 a contatto con il territorio Catania è una delle dieci città scelte tende rossa in piazza Aste Sicolo da stamane per sei giorni Catania è una delle dieci città italiane prescelte per l'iniziativa e una delle dieci tende rosse del sindacato FLAI CGL nazionale è stata piantata in piazza Aste Sicolo l'iniziativa pone particolare attenzione sullo sfruttamento dei migranti nei campi la produttività del settore delle donne e il lavoro forestale nei prossimi giorni sarà coinvolta anche Lingua Glossa In maniera originale cercheremo in queste settimane di stare accanto ai lavoratori e alle lavoratrici nei luoghi non classici dove appunto sono i lavoratori e i lavoratrici quindi nei luoghi di lavoro, nelle strutture comunali saremo nelle piazze della provincia oggi siamo a Catania e nei prossimi giorni saremo a Lingua Glossa perché vogliamo raccogliere le loro ansie, le loro inquietudine le loro difficoltà e quindi è una prosecuzione del sindacato di strada l'idea appunto noi ci mettiamo le tende è appunto mettere le tende dove possa esserci un luogo di incontro e di confronto con i lavoratori in queste settimane noi in provincia di Catania svilupperemo tre argomenti quello sugli immigrati quello della condizione lavorativa delle donne nel nostro territorio e poi le grandi potenzialità che il settore agroalimentare ha nella nostra provincia perché siamo consapevoli che soltanto se riparte questo settore questa provincia può avere un momento di crescita e di sviluppo non indifferente e intanto per l'avvertenza MT nuova giornata di protesta dei lavoratori oggi a Catania per il trasporto pubblico l'azienda sull'orlo del fallimento con oltre 55 milioni di debiti sentiamo i dettagli protesta nel lavoratore dell'azienda metropolitana Trasporti di Catania che stamattina hanno tenuto un sit-in davanti alla sede dell'azienda i riflettori sono puntati sulla situazione economica dell'AMT e sui disagi conseguenti sia per i cittadini che per i dipendenti che reclamano il loro stipendio del mese di aprile una situazione quella attuale della partecipata della comune di Catania che a sentire i lavoratori è senza prospettiva e programmazione alcuna allora noi oggi ci troviamo per l'ennesima volta come ormai da mesi ad avere un ritardi negli stipendi purtroppo molti di noi essendo monoreddito soffriamo questa problematica perché l'azienda ormai dall'anno scorso non rispetta la data del 27 che è il giorno utile del pagamento oggi noi siamo qua per chiedere certezze in merito alla puntualità nei mesi a venire dello stipendio e per quanto riguarda il mese corrente per avere delle notizie perché oggi ne abbiamo due e ancora ad oggi sul nostro sito che abbiamo aziendale non è nemmeno uscita la busta paga questa situazione ormai non ha una via di uscita vediamo che siamo obbligati con dello straordinario forzato e non retribuito in busta con delle norme interpretate così in una maniera un po' strana non riusciamo a capire il perché questo personale non è più retribuito per come era prima in più il trasporto pubblicale che è un diritto dell'uomo di muoversi, dell'uomo libero per muoversi bene la città è piena, le fermate sono stracolme e noi soffriamo sia per la manganza di un buono stipendio perché come avevamo prima noi non vogliamo niente lo straordinario se si deve fare deve essere retribuito non si può pagare come lo interpreta la direzione e poi ancora la vicenda del teatro stabile di Catania continua all'occupazione al teatro Verga anche dopo l'approvazione del bilancio preventivo 2016 da parte del CDA ora si attendono i primi fondi per dare ossigeno ai lavoratori senza stipendio da mesi ma c'è da pensare ad un piano di risanamento sentiamo approvato il bilancio preventivo 2016 del teatro stabile di Catania deliberato da comune, provincia e regione durante l'assemblea dei soci dello scorso fine settimana la prima convocazione del CDA lunedì scorso si era risolta in un nulla di fatto per l'assenza di regione e provincia l'ultima tappa della dolorosa vicenda rappresenta un segnale positivo alla vigilia della festa dei lavoratori per le decine di dipendenti del teatro catanese riunite in assemblea permanente dallo scorso 17 aprile per vendicare gli stipendi e retrati ma soprattutto un futuro certo per l'ente culturale tra i più prestigiosi della Sicilia per storia e tradizione ma l'esito della riunione dei soci non ha determinato la sospensione della protesta i locali del teatro Verga restano occupati le attività ferme sono già saltati due spettacoli uno dei quali è al musco ed i lavoratori oramai allo estremo mantengono l'assemblea H24 fino allo sblocco delle spettanze con garanzie concrete per la vita dell'istituzione culturale il disavanzo dello stabile reso noto durante l'ultimo vertice in prefettura ammonta a circa 7 milioni di euro per la regione e l'assessore al turismo spettacolo Antonio Barbagallo a spiegare i prossimi passi l'approvazione da parte del CdA dello stabile e del bilancio preventivo 2016 consentirà agli uffici i poteri liquidati l'anticipo del contributo ordinario per l'anno in corso attraverso il fondo regionale di pagamento del Fulso 2015 e grazie all'intervento sostitutivo sulla ratizzazione del debito con l'Inps che l'assessorato effettuerà la prossima settimana si potrà dare respiro ai lavoratori ha aggiunto l'esponente del governo Crocetta parallelamente si procederà con il piano di risanamento finanziario del teatro condizioni indispensabili per garantire allo stabile un futuro adesso le amministrative del 5 giugno oramai alle porte i 5 stelle a giarre schierano Francesco Candido per la poltrona di sindaco stamane a Palazzo della Cultura la presentazione della lista parola d'ordine rinnovamento si è dimesso da presidente della Confcommercio di Giarre il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle Francesco Candido una scelta spiegato dettata da ragioni etiche e di opportunità punta al risveglio produttivo della città che definisce anestetizzata l'aspirante primo cittadino pentastellato che nella sala Romeo del Palazzo delle Culture ha presentato ufficialmente la sua corsa al Palazzo di Città una candidatura fuori dalle vecchie logiche di partito ha commentato con i giarresi al centro dell'azione di rinnovamento proposta dal Movimento ci presentiamo aggiunto per aprire una nuova era per Giarre attualmente fortemente provata da una classe politica inaffidabile nel momento in cui tutti parlano di accordi di persone di apparentamenti e si dimenticano di parlare dei giarresi quei giarresi che sono stati anestetizzati per vent'anni che per vent'anni hanno pagato lo scotto di una politica dubbia e ora forse è il momento che si risveglino e per poter dare nuova linfa a questa città Candido salvo sorprese se la vedrà con altri tre pretendenti le candidature dovranno essere presentate entro sabato prossimo il PD si presenta diviso con due aspiranti sindaco Tania Spitaleri e Salvo Vitale con quest'ultimo che nelle ultime ore ha detto no all'appoggio del megafono il coordinatore provinciale del Movimento del Governatore Crocetta Giuseppe Caudo aveva subordinato l'accordo all'esclusione del nuovo centrodestra una condizione non accettata da Vitale che ieri in conferenza stampa ha motivato le ragioni della sua scelta io ho cercato di allargare la mia coalizione ma senza ma non sono il tipo che accetta delle pregiudiziali noi possiamo confrontarci possiamo discutere ma delle pregiudiziali ex ante no il megafono sosterrà dunque Spitaleri oggi in ufficializzazione il quarto candidato è Angelo Danna sponsorizzato da alcune liste civiche dal centrodestra che ha deciso di non presentare un proprio esponente adesso lo sport partiamo dal calcio di Lega Pro pareggio a reti inviolante per il Catania contro la poco ambiziosa Paganese rassegnazione adesso e rischio retrocessione Francesco Larosa il Catania ad un passo dai play-out la formazione etnea non è riuscita a vincere sul campo della Paganese al termine della solita partita bulica con gli uomini di Moriero che non sono neanche riusciti a sfruttare i regali del porterino avversario che in almeno due circostanze ha dato via libera a plasmati e compagni ma la palla in rete non c'è finita e così lo 0-0 finale sembra spalancare la porta degli spareggi salvezza alla squadra di Moriero sabato prossimo ultima gara della stagione regolare alla Massimino con gli etnei che ospiteranno la Fidelissandria ma anche in caso di vittoria il Catania dovrà sperare che il Matera contenga gli assalti delle monopoli ai pugliesi infatti basta vincere sul campo dell'ormai demotivata formazione lucana per archiviare la pratica salvezza a sconcertare maggiormente e la prova offerta collettivamente dalla squadra chi ha pagani contro un avversario che aveva assolutamente bisogno di un punto per salvarsi ha giocato senza alcuna intraprendenza accontentandosi di un risultato d'occhiali che non risolve il problema le prospettive sono davvero poco rose l'unico sussulto il palo colpito da plasmati a metà del primo tempo dopo un'errata uscita della portiera avversario poi nient'altro e soltanto negli istanti finali il Catania ha avuto un sussulto d'orgoglio che non è bastato però a sbloccare il risultato con i padroni di casa che nascondevano il pallone in ogni modo a 90 minuti dalla fine dunque ci si può aggrappare soltanto ad una flebile speranza e la preoccupazione aumenta se si pensa all'arrendimento negli ultimi mesi della squadra rossa-azzurra in vista dei play-out che non concederanno appello alcuno e in eccellenza finisce il sogno per la Cireale calcio sconfitto a Lentini dalla Sicula Leonzio sentiamo è sfumato negli istanti finali il sogno promozione della Cireale come documentano le immagini di Bipress proprio alla novantesimo su azione di contropiede d'agosta della Sicula Leonzio ha messo a segno il gol che spedisce alle finali nazionali dei play-off per l'accesso in Serie D la formazione lentinese per la Cireale tanto rammarico quando con il risultato fermo sullo 0-0 sembrava che tutto fosse rimandato ai supplementari tuttavia dopo aver subito il gol la squadra di Anastasi ci ha provato con la forza della disperazione ma il gol del possibile pareggio siglato da Bellino è stato annullato per fuorigioco quasi un migliaio di tifosi accesi che si erano recati speranzosi a Lentini ma come denunciato dall'assessore allo sport della comune di Acerale l'accoglienza non è certo stata delle migliori l'accoglienza con la quale la tifoseria accese la cittadinanza tutta che si è recata in massa a Lentini non è stata delle migliori ho potuto constatare con i miei occhi che vi era la presenza di scarti di pesce ammalorato di grasso nelle ringhiere di protezione io non so di chi è la colpa non so chi è stato il responsabile non voglio fare accuse dirette a persone però questa non è l'accoglienza che una città come Cireale che ha una storia che ha una storia calcistica importantissima non è un'accoglienza che meritiamo e che merita tutta la cittadinanza accese devo essere sincero sono molto amareggiato sia come cittadino sia come tifoso e soprattutto come rappresentante delle istituzioni nessuno aggiornamento ci fermiamo qui anche per questa edizione di Oretti G vi ricordo che potete seguirci anche attraverso il sito internet www.reitv.it e la pagina facebook adesso vi lascio come sempre alle previsioni del tempo le previsioni meteo per la giornata di martedì 3 maggio ancora tempo instabile su tutta la Sicilia nuvole e precipitazioni nelle zone più interne dell'isola mari calmi venti sostenuti le temperature uscilleranno da 21 a 4 gradi a Catania e provincia a 21 gradi la massima 10 di minima grazie a tutti